buongiorno e benvenuti al mio canale in un commento mi è stato chiesto come fare delle frecce su gimp ovviamente le frecce si possono fare su un progetto in questo caso di sfondo bianco ma oppure si possono fare su una foto su un'immagine il sistema è chiaramente lo stesso si possono fare anche a mano naturalmente ovviamente se uno ha il touchscreen e utilizza un pennino un pennino apposito può benissimo farle a mano e anche in maniera molto precisa ma in questo caso io ho utilizzato un plugin o meglio uno script che vedremo come ho installato e come si può usare per farle a mano non è semplicissimo si va sul pennello si sceglie un colore qualsiasi per esempio scegliamo questo marrone qua si va solo ok si imposta la dimensione del pennello si guarda un po qua si aumentiamo un ecco a questo punto uno fa così così e così e crea una freccia manualmente è chiaro che però probabilmente mi è stato chiesto come creare delle frecce in maniera un po più professionale e adesso vediamo appunto come farlo con un plugin che in realtà è uno script è in questo forum di appunto di gimp per scaricarlo si clicca su questo link vedete io non so se posso caricarlo sul mio spazio anche se è una cosa open source non lo so se diciamo così morale etico caricarlo sul mio spazio quindi vi lascerò il link di questo forum per scaricare questo file ci si clicca sopra e verrà scaricato un file zip ecco qua il file zip che viene scaricato si apre la cartella di download in cui è finito il file zip ora questo file zip dovrà essere scompattato per scompattarlo ci si clicca sopra con il resto del mouse con windows naturalmente si va su estrai tutto e quindi su estrai per estrarlo nella stessa nella stessa cartella in questo caso la cartella download per accedere un'altra cartella con all'interno appunto il plugin eccolo qua come vedete c'è un pdf che non è altro che le istruzioni per utilizzare questo plugin lo possiamo aprire doppio clic si apre questo è il pdf per le istruzioni vedete ci sono le istruzioni di come impostare le frecce chiudiamo e questo invece è il plugin vero e proprio che come vedete ha estensione scm dunque allora dobbiamo fare una premessa i plugin con estensioni scm non sono plugin ma sono script e vanno inseriti appunto nella cartella script di gimp mentre i plugin veri e propri hanno estensione py e vanno inseriti nella cartella plugin di gimp poi ci sono anche i pennelli che invece vanno inseriti nella cannella brushes nella cannella pennelli e che hanno estensione abr magari in seguito vedremo come installare tutti questi tipi di plugin script e pennelli per adesso concentriamoci su come installare sul nostro gimp questo plugin arrow cioè freccia di estensione scm quindi uno script noi abbiamo già aperto gimp quindi non occorre a filo che è già aperto andiamo qua su modifica preferenze si aprirà una finestra in questa finestra si va su più cartelle qui e le cartelle come vedete ci sono le cartelle pennelli per appunto installare altri pennelli in questo caso non ci interessa poi c'è anche la cartella plugin per installare altri plugin che in questo momento non ci interessa poi c'è la cartella script che è proprio quella che ci interessa perché in questo caso essendo un file di attenzione scm significa che uno script quindi si clicca sopra e qui si vedono i due percorsi degli script a noi ci interessa il percorso con app data questo qua il primo che è quello principale diciamo così ci si clicca sopra per selezionarlo poi si va qua su questo pulsante che come vedete c'è scritto mostra posizione file nel gestore file significa che se io adesso ci clicco sopra si aprirà esplora file e mi verrà mostrato dove si trova la cartella script che è proprio appunto quella in cui io devo inserire il nostro script il nostro plugin chiamiamolo plugin anche se è uno script ci clicco sopra e si apre esplora file come vedete c'è la cartella script ci faccio subito dopo clic e come vedete io lo script harrow scm l'ho già installato l'ho già spostato ma se io se non l'avessi spostato questo lo ancora sulla destra apro esplora file con il file harrow scm e sposto il file harrow scm da qui oppure tenendo premuto ctrl per copiarlo a qui in questo caso non lo faccio perché come vedete l'ho già copiato però è semplicissimo si copia semplicemente facendo uno spostamento quando è stato copiato chiaramente si può chiudere questa cartella si può chiudere anche quest'altra cartella si va su ok e a questo punto dobbiamo chiudere gimp per poter poi successivamente riaffrirlo per poter caricare questo plugin perché i plugin gli script i fennelli vengono caricati nel momento in cui si avvia se voi avete presente nel momento in cui si avvia gimp vengono caricati sia iphone sia i plugin sia tutto questo caso non occorre ricaricarlo perché appunto ce l'ho già installato ma nel caso in cui lo avessi installato in questo momento dovete chiudere gimp e poi poi riaprirlo adesso vediamo come si fa a usare questo plugin per creare delle frecce apriamo un altro un altro progetto file nuova ci vediamo sempre il colore bianco di sfondo e andiamo su ok questo è il nostro progetto e dov'è il plugin per chi si trova negli strumenti strumenti harrow vedete eccolo qua harrow harrow vedete per poterlo utilizzare però bisogna creare un percorso cos'è un percorso non è altro che il punto di inizio e il punto di fine della della freccia quindi si seleziona il percorso che è questo strumento percorso come vedete per selezionarlo basta anche utilizzare la lettera b io posso cliccarci sopra per selezionare questo strumento oppure per esempio se ho selezionato un altro strumento vado su b nella tastiera e seleziono lo strumento percorso semplicissimo e a questo punto io clicco su sui due punti che devono essere l'inizio e la fine della freccia per esempio ovviamente posso impostare anche il colore della freccia ci vediamo un rosso faccio su ok quindi con il percorso selezionato clicco qua e poi clicco qua e adesso vado su strumenti harrow harrow e questa è la finestra di configurazione della freccia per il momento vado su reimposta per lasciare i dati di default questa lunghezza delle wings cioè la lunghezza delle frecce praticamente poi questo qui è l'angolo tra la freccia e la linea della freccia stessa la percentuale della testa della freccia questa è la dimensione la dimensione della freccia in questo caso 6 fixe mi sembra poco andiamo subito su 15 per esempio poi ci sono anche altre impostazioni per esempio come testa della freccia si usa il primo punto cioè in questo caso questo qui è stato il primo che ho digitato quindi se io lascio questa impostazione la punta della freccia andrà in questo punto vado su ok e verrà creata la freccia come vedete è stata creata appunto in questo punto io posso naturalmente creare altre frecce come vuoi fare posso cambiare i colori per esempio fare un blu vado su ok sempre con il percorso selezionato posso cliccare per esempio qui e qui poi vado su strumenti harrow harrow in questo caso la lunghezza delle wings cioè non so come chiamarle insomma della parte iniziale della freccia aumentiamole andiamo che sono a 60 la dimensione lo spessore della freccia facciamo 25 stavolta togliamo la spunta in modo che la freccia non vada con la punta qua ma sia dall'altra parte in questo modo l'angolo 25 gradi diminuiamolo un po' 15 gradi ecco qua come vedete qui c'è un importante quadratino di controllo che dice usa un nuovo livello per ogni freccia se io lascio questo punto come vedete per ogni freccia viene creato un nuovo livello quindi questo è importante per poter poi eventualmente modificare la freccia io vado su ok ecco vedete che stavolta la freccia è voltata dalla parte opposta perché non ho tolto quella spunta lì ora si può naturalmente continuare a fare frecce bisogna un po' esercitarsi si fa prima un percorso poi si fa strumenti arrow la lunghezza delle wings diminuiamola un po' l'angolo magari riportiamola a 25 la percentuale lasciamola stare qui la dimensione diminuiamola un pochetto e questo qui cos'è questo strumento questo quadratino di controllo per avere le frecce con la doppia testa cioè con le frecce rivoltate in entrambi i sensi questo è utile in molti casi avere una freccia con la doppia punta si va su ok e come vedete la freccia ha una testa da una parte e dall'altra ora si possono creare frecce curva per certo basta creare un percorso curvo quindi con questo qui selezionato come si fa a creare un percorso per esempio spezzato io clicco qua poi clicco qua e poi clicco qua a questo punto vado su strumenti arrow arrow lasciamo tutto com'è togliamo la doppia freccia perché sennò in questo caso è brutto vado su ok e come vedete vi era creata una freccia in questo modo un po' spezzata per fare la curva sempre con un percorso selezionato per esempio io posso cliccare qua poi posso cliccare qua e poi posso cliccare qua poi vado nel mezzo di questo primo strumento e lo sposto vedete lo posso curvare e quindi creare un percorso di questo genere tu avrei creato un percorso di questo genere vado sempre su strumenti cambiamo colore scegliamo che sia un colore nero andiamo su ok strumenti arrow arrow diminuiamo un pochetto qua lasciamo più o meno tutto com'è allora aumentiamo qui aumentiamo pure diminuiamo un po' la dimensione e andiamo su ok come vedete questa è una freccia che ha una sua curvatura possiamo fare anche delle frecce con curvature diverse basta impostare il percorso così per esempio adesso non so se mi riuscirà ci proviamo ecco quindi clicco qui e abbasso un pochino clicco qui e alzo un pochetto clicco qui così il colore scelgo un verde scuro vado su ok strumenti arrow arrow lascio sempre le stese impostazioni di prima ma si possono cambiare tutte le volte che si vuole e se si va su reimposta si impostano le impostazioni di default naturalmente si va su reimposta verranno impostate le impostazioni di default vedete però non mi piacciono perché c'è la dimensione che è troppo piccola che è di 6 fixe mettiamola 15 per esempio si va su ok ed ecco che è stata creata la freccia però con la punta all'inizio perché non avevo tolto il quadratino di controllo che la punta va all'inizio invece che alla fine come vedete qua ci sono i livelli questa è la prima freccia che ho creato cioè questa vedete se io la seleziono si seleziona la freccia questa è la seconda freccia si seleziona la freccia questa è la terza freccia questa questa è la quarta freccia questa è la quinta freccia e questa è la terza freccia se io voglio modificare questa freccia la seleziono qui nei livelli vado ad esempio su sposta che faccio? la sposto dove mi pare? vado per esempio su ruota e che faccio? la ruoto come mi pare? vedete? poi posso andare su scala per esempio se vado su scala ci fico sopra e la posso aumentare di dimensione come mi pare? questo lo faccio con quella freccia che ho selezionato perché è questa ma lo potevo fare anche con la seconda freccia chiaramente poi vado su scala e la modifico posso modificare anche che so l'ultima freccia che ho selezionato questa per esempio vado su ruota e la posso ruotare così poi vado su scala e la posso ridimensionare poi vado su sposta e la posso spostare dove mi pare mi pare di aver detto tutto su più o meno le cose più importanti per quanto riguarda le frecce e chiaramente queste frecce possono essere inserite anche in una immagine della stessa maniera se la soffai apri si prende un'immagine qualsiasi si apre un'immagine converti ctrl shift il lungo per metterla a tutto il layout per inserire una freccia su una immagine si va da stessa maniera si seleziona il percorso cliccando qui o andando su B stessa cosa e si crea una selezione nel tracciato per esempio io voglio fare una freccia voltata verso l'occhio allora clicco qua ma di qua poi clicco qua poi vado su strumenti arrow arrow in questo caso devo togliere la spunta a usa il primo punto come come tetra della freccia lo tolgo in modo da usare il secondo punto lascio tutto così come è vado su ok e creerò una freccia su questa foto in questa maniera come vedete questa freccia poi la posso selezionare qua vedete c'è il livello della freccia e la posso spostare la posso ruotare e la posso scalare e poi per poi spostarla nuovamente in questa maniera qua si va poi su file esporta come e si esporta la foto con le frecce che abbiamo inserito nella foto stessa bisogna scaricare questo plugin andando qua su questo link si scarica un file zip che poi per poi scompattarlo il contenuto in formato scm che si inserisce nella cartella script andando su modifica preferenze cartelle script si seleziona la prima occorrenza il primo percorso si può si va qua per visualizzarlo nel gestore dei file cioè in esporta file se uno a windows si fa solo un po' clicca nella cartella scripts e si trascina nella cartella scripts il file sgm che abbiamo appunto scaricato dal forum di gimp e questo è tutto alla prossima volta che c'è che c'è che c'è